Nei giorni scorsi un nostro articolo sul nuovo sodalizio Granata ha provocato una certa indignazione fra i lettori. Sostanzialmente siamo stati accusati di disfattismo. Eppure si dedicavano anche parole di apprezzamento, sottolineando quanto fossero difficili questo tipo di avventure nel mondo del pallone e dunque augurando il classico in bocca al lupo al presidente La Rosa. Così, come si specificava che alla fine sarebbe stato il campo, come sempre, a dire l'ultima parola e che qualora le cose andranno, come tutti noi tifosi ci auguriamo, le perplessità di queste prime settimane espresse anche da altri autorevoli commentatori sarebbero passate in secondo piano. Dubbi assolutamente legittimi per i tanti, troppi accadimenti di questi due mesi con defezioni su defezioni a prescindere dalle comprensibili criticità. Trovate sul tavolo della nuova governance. Fatti inconfutabili. Altrettanto è il nostro inconfutabile diritto, oltre che dovere, fare il punto di tanto in tanto al netto dei servizi asciutti di cronaca per raccontare il mercato o il calendario giorno per giorno. E il nostro lavoro. Piaccia o non piaccia. Alcuni commenti poi erano talmente surreali della serie Basiti. Una delle motivazioni del presunto rancore sarebbe l'affidamento della raccolta pubblicitaria ad altro media del territorio. Il nostro gruppo editoriale non sarebbe stato minimamente interessato neanche se la proposta gli fosse stata servita su un piatto d'argento. Non è il nostro lavoro. Telesudo fa altro ed è completamente diverso per il proprio core business. Anche allo staff commerciale, quindi, vanno i miei personali auguri per il difficile impegno preso. Qualche altro povero Pirla, nelle immancabili chiacchiere da bar, addirittura ricordava la mia esperienza nel Cidia Granata, nominato a stagione ampiamente compromessa e che, di lì a breve, sprofondava nella pandemia mondiale e la relativa ingiusta penalizzazione per modeste irregolarità su adempimenti di Lega, che ha provocato a fine stagione la retrocessione dalla Serie B. Insomma, per il tizio la responsabilità sarebbe stata anche mia, o peggio, chissà cosa avessi combinato durante quei mesi. Osservazioni che non meriterebbero alcuna risposta per quanto siano puerili ed ignoranti, non sapendo neanche di cosa si parli, ma sottolineo in favore dei lettori in generale che a seguito di quel fallimento è in corso un procedimento giudiziario dovuto che ha escluso il sottoscritto, credo unico, fra i membri del Cidia, alternate 5 mesi da qualsivoglia contiguità con quelle presunte responsabilità penali. Nessuna iscrizione sul registro degli indagati, almeno che mi risulti, ma di certo nessun processo da imputato o anche solo testimone. Il che la dice lunga sulla correttezza dell'operato, così come la conferma che le mie deleghe, marketing e relazioni esterne, in alcun modo prevedevano responsabilità amministrative o maneggio di denaro. Il tutto gratuitamente e togliendo tanto tempo ai miei affetti e alle mie aziende. Non credo ci sia molto da aggiungere. Per ritornare alla rosa, invece, non ho avuto il modo di conoscerlo, pertanto non potrei, anche volendo, provare alcuna antipatia o simpatia di solta. Non posso che ribadire il concetto espresso dalla nostra redazione che sottolineava la bella gatta da pelare presasi. Quindi, gli auguri sono d'obbligo, sinceri e forieri di fortuna per i nostri amati colori Granata. Ci ho detto, se ci è consentito, il saldo di questi mesi è decisamente in chiaro-oscuro. Lo scuro è dettato dai troppi inciampi di queste settimane con la figuraccia dell'ex direttore strano. Il chiaro dalla scelta di investire sul trapani calcio, e diciamocelo chiaramente con una punta di rammarico, senza che ancora una volta gli imprenditori locali abbiano voluto crederci ed una campagna acquisti che gli addetti ai lavori commentano con favore. Alla fine sarà il campo a tagliare la testa al toro. Nel frattempo, forza Trapani e forza Presidente La Rosa con le migliori fortune da parte del nostro gruppo editoriale.